Le opportunità rappresentate dai musei aziendali e dal turismo industriale. Si è parlato di questo oggi a Bari, all'interno dello stabilimento Peroni, in cui un gruppo di una cinquantina di persone ha potuto visitare lo stabilimento e il museo che si trova al suo interno. A guidare la visita la direttrice di stabilimento, Alba Corradini. Subito dopo si è svolto un dibattito in collaborazione con Confindustria BariBat, in cui si è discusso proprio di questo e della possibilità di ampliare a queste eventualità le prospettive turistiche della Puglia. Il turismo industriale permette sicuramente di ampliare l'offerta culturale del territorio, che parlando del nostro, della Puglia, è un territorio ormai di grande successo dal punto di vista turistico, solo che è ancora spostato molto sul turismo balneare, quindi è importante che venga ampliata anche da altri punti di vista l'offerta. C'è stata una recente indagine che ha dimostrato che il turismo potrebbe aumentare in termini di presenze del 10% se appunto l'offerta culturale fosse ancora più diversificata. In questo senso penso che il turismo industriale costituisca un'opportunità.